ancora una volta da Jeremy Bro che prova a gestire la manovra che si è un po' persa e avrebbe avuto l'opportunità di fare meglio in questa situazione però bravissimo Ger a inventare per Luperini che tocca quanto basta è 3-0 Palermo, bravissimo qua Mosi Socher a inventare un pallone straordinario per Gregorio Luperini che con i suoi ottimi tempi di inserimento fa 3-0 Assolutamente, questa è una giocata pregevolissima perché insomma c'è stato un giro palla davvero intenso in attesa di trovare il barco giusto Ger è stato bravo, ha premiato il taglio interno di Gregorio Luperini che ha preso il tempo alle linee difensive avversarie ha messo questa sfera dolce col contagiri per l'ex centrocampista del Trapani che ha beffato con un tocco di esterno